Che cosa succederebbe se ti dicessi che alcune delle abitudini che pratichi ogni giorno stanno erodendo la tua forza, ostacolando il tuo progresso e mantenendoti intrappolato in un ciclo di debolezza senza che tu ne sia consapevole? In questo video analizzeremo dieci abitudini che, pur sembrando innocue, lentamente ti consumano dall'interno. Se desideri vivere una vita con maggiore potere e controllo su te stesso, è essenziale riconoscere ed eliminare immediatamente questi comportamenti. Rimani fino alla fine per scoprire quali sono e come lo stoicismo può aiutarti a liberartene. Prima di continuare, ti sarei grato se potessi mettere un like e condividere questo video affinché possa raggiungere molte più persone e se non vuoi perderti i miei futuri video, iscriviti e attiva la campanella. Incapacità di affrontare le emozioni negative Una delle abitudini più corrosive per la nostra forza emotiva è l'incapacità di affrontare e processare le nostre emozioni negative. Nella nostra cultura spesso ci viene insegnato a evitare il dolore, a distrarci dalla tristezza o a nascondere la frustrazione dietro una facciata di falsa positività. Tuttavia, ciò che non comprendiamo è che queste emozioni, se non affrontate, non scompaiono. Rimangono lì, accumulandosi come una pressione costante, finché alla fine ci sopraffanno e ci fanno crollare. Il problema risiede nel fatto che evitiamo ciò che consideriamo scomodo, cercando rifugio in distrazioni temporanee o ignorando il disagio, credendo erroneamente che col tempo scomparirà. Tuttavia, le emozioni negative sono segnali, indicatori che qualcosa dentro di noi ha bisogno di essere affrontato. Evitarle è come ignorare una ferita aperta. All'inizio può sembrare più facile non affrontarle, ma col tempo l'infezione emotiva cresce e influisce profondamente sulla nostra forza mentale. Lo stoicismo ci insegna ad accettare le nostre emozioni, anche le più oscure, come parte essenziale del processo di autoconoscenza e crescita. Affrontare il dolore, la tristezza e la frustrazione non è un segno di debolezza, ma di vera forza. È in questo confronto che troviamo chiarezza, comprensione e, infine, liberazione. Evitare le nostre emozioni negative ci priva della possibilità di crescere e imparare da esse. La vera forza non risiede nell'evitare il dolore, ma nell'affrontarlo con coraggio. Riconoscere e processare le nostre emozioni ci rende più resilienti, più capaci di affrontare le avversità della vita senza essere vittime della nostra stessa fragilità emotiva. Lo stoicismo ci insegna ad accettare e affrontare le nostre emozioni con coraggio. Invece di temerle, dovremmo abbracciarle come opportunità di crescita e di rafforzamento della nostra resilienza. Quando riconosci e processi le tue emozioni, diventi più forte e meno dipendente da fattori esterni. Non cadere nell'abitudine di nascondere ciò che senti. Invece, usa le tue emozioni come uno strumento per migliorare. Parlare negativamente di se stessi Il linguaggio che usiamo per parlare agli altri è importante, ma quello che utilizziamo per riferirci a noi stessi è decisivo. Ogni pensiero autocritico o negativo è come un mattone che costruisce un muro tra ciò che sei e ciò che potresti diventare. Frasi come «Non sono abbastanza bravo», «Fallisco sempre» o «Non sarò mai capace di farlo» si infiltrano nella tua mente, erodono la tua autostima e definiscono la tua realtà. Quello che dici a te stesso ti definisce. Il problema con questo dialogo interno distruttivo è che non si limita alle parole, ma influisce su come ti senti e agisci. Più ripeti queste frasi, più diventano reali. Ogni volta che ti insulti o ti sminuisci, stai sabotando la tua capacità di superare le difficoltà e crescere. Questa abitudine si trasforma in un circolo vizioso. I tuoi pensieri creano emozioni negative, che rafforzano comportamenti autolimitanti, perpetuando così la convinzione di non essere abbastanza. Lo stoicismo ci insegna a usare la ragione per contrastare queste voci interne. Gli stoici credevano che non siano gli eventi esterni a turbarci, ma il modo in cui li interpretiamo. Lo stesso vale per il linguaggio interno. Non è ciò che sei a limitarti, ma ciò che credi e dici su di te. Cambia questa narrativa. Se ti parli con rispetto, comprensione e pazienza, comincerai a costruire un nuovo senso di forza. Trasformare il tuo dialogo interno non solo ti libera dalle barriere che hai costruito, ma ti apre a un potenziale che non credevi possibile. Cambiando le tue parole, cambi il tuo mondo. Evitare le sfide Evitare le sfide è una delle abitudini più comuni e pericolose che coltiviamo senza rendercene conto. La comodità ci chiama costantemente. Restare nella zona di comfort sembra più sicuro, più facile, più naturale. Ma la comodità è il nemico del progresso. Ogni volta che eviti una sfida, che sia sul lavoro, in una relazione o nel tuo sviluppo personale, stai scegliendo la stagnazione anziché la crescita. Stai evitando l'opportunità di diventare una versione più forte e resiliente di te stesso. Quando eviti le sfide, ti privi delle lezioni che solo la difficoltà può insegnare. Lo stoicismo ci ricorda che la vera crescita non avviene nei momenti di tranquillità, ma nell'avversità. Le sfide, per quanto scomode, sono prove che rafforzano il tuo carattere, la tua mente e il tuo spirito. Affrontandole, impari non solo a superare gli ostacoli, ma a conoscere meglio te stesso, a capire di cosa sei fatto e di cosa sei capace. Lo stoico Seneca diceva La difficoltà fortifica la mente, così come il lavoro fortifica il corpo. Evitare ciò che è difficile ti indebolisce perché perdi l'opportunità di sviluppare la resilienza necessaria per affrontare le sfide inevitabili della vita. Fuggendo da ciò che ti spaventa o ti mette a disagio, stai costruendo una vita di fragilità e paura. Ogni sfida è un'opportunità travestita, una porta verso la crescita. Affrontarle con coraggio ti prepara non solo per gli ostacoli presenti, ma anche per qualsiasi situazione che la vita ti presenterà in futuro. La forza si forgia nel fuoco delle sfide. Compilcesi e non materialismo e che si vonna la socchietà, attuale siamo, condizionati a credere c'è. La felicità dipenda. Da chi ho c'è possedicmo. Più soldi? Una cast più grande? L'ultimo telefono? O una macchina di lusso? Questo materialismo eccessivo ci porta a cercare costantemente soddisfazione in cose esterne, credendo che solo così raggiungeremo la pienezza. Ma la verità è che, quanto più ti aggrappi alle cose materiali, tanto più vuota diventa la tua vita interiore. Il problema con questa abitudine è che le cose che possiedi non riempiranno mai quel vuoto in modo permanente. Dipendere da cose esterne per il tuo benessere ti rende vulnerabile all'ansia, alla paura e all'insicurezza. C'è sempre qualcos'altro da desiderare, qualcos'altro da comprare, che ti lascia in una corsa infinita verso una soddisfazione che non arriva mai. Inoltre, ciò che è materiale è fuori dal tuo controllo, può essere portato via in qualsiasi momento, e quando la tua felicità dipende da esso, diventi emotivamente fragile. Lo stoicismo ci insegna che la vera forza e libertà non derivano da ciò che possediamo, ma dalla nostra capacità di controllare i nostri pensieri e le nostre emozioni. Gli stoici ci ricordano che le cose sono indifferenti, possono essere utili, ma non sono essenziali per la nostra felicità. Ciò che conta davvero è la nostra virtù e la nostra capacità di vivere secondo i nostri valori. Quando comprendi che nulla di esterno può definire il tuo valore o il tuo benessere, ti liberi dalla prigione del materialismo. Imparando ad apprezzare ciò che hai senza dipenderne, trovi una pace e una forza interiore che nessuna quantità di possedimenti ti può dare. La vera ricchezza risiede nel controllo della tua mente, non in ciò che accumuli. Cercare validazione esterna Una delle abitudini più corrosive e debilitanti è il bisogno costante di validazione esterna. Vivere per compiacere gli altri, cercando la loro approvazione, ti priva di qualcosa di prezioso, la tua autenticità. Quando ti definisci in funzione delle opinioni altrui, diventi una marionetta delle aspettative degli altri, perdendo il controllo della tua vita e indebolendo il tuo senso di identità. Il problema con questo comportamento è che, per quanto cerchi di piacere a tutti, ci sarà sempre qualcuno che non approverà ciò che fai. Questo ciclo infinito di ricerca e di approvazione ti lascia insoddisfatto e esausto, perché stai inseguendo qualcosa di irraggiungibile, l'approvazione universale. Ma cosa succede quando il tuo valore personale dipende da ciò che gli altri pensano? Cedi il tuo potere e ti allontani dal tuo vero scopo, mettendo da parte i tuoi valori e principi. Lo stoicismo ci insegna a concentrare la nostra energia su ciò che possiamo davvero controllare, la nostra mente, le nostre azioni e le nostre reazioni. Marco Aurelio diceva «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Smetti di vivere per compiacere gli altri e inizia a vivere secondo i tuoi valori. Facendo così, ti liberi dal peso soffocante della validazione esterna e riprendi il controllo della tua vita. Il cammino verso la vera forza interiore passa dal non cercare più l'approvazione degli altri e cominciare a convalidare te stesso. Quando il tuo valore proviene dalla tua integrità e non dall'opinione altrui, diventi invulnerabile ai giudizi degli altri. Questa è la vera libertà». Procrastinazione cronica La procrastinazione cronica è un'abitudine che può sembrare innocua a prima vista, ma col tempo diventa una trappola che sabota la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni volta che decidi di rimandare un compito importante, ti privi dell'opportunità di fare progressi. Posticipare le azioni necessarie per crescere significa scegliere il piacere immediato a scapito del successo a lungo termine. E anche se in quel momento sembra più facile rimandare ciò che ti mette a disagio, quel sollievo è temporaneo. Alla fine, l'accumulo di compiti rimandati diventa un peso molto più grande. La procrastinazione non solo ritarda il raggiungimento dei tuoi obiettivi, ma indebolisce anche la tua autodisciplina. Abituandoti a evitare ciò che dovresti fare, crei l'abitudine di sfuggire alle responsabilità, rimanendo intrappolato in un ciclo di mediocrità dove le cose difficili sembrano sempre più irraggiungibili e i compiti più semplici si trasformano in montagne insuperabili. Lo stoicismo ci insegna a considerare il tempo come una delle risorse più preziose che abbiamo. Marco Aurelio ci ricorda che perdere tempo è la perdita più grande perché è irrecuperabile. Rimandare le nostre azioni è una forma di indebolimento della nostra capacità di progresso e di cedere alla paura dello sforzo. Gli stoici sostenevano l'importanza dell'azione immediata del fare ciò che deve essere fatto senza aspettare il momento perfetto poiché quel momento spesso non arriva mai. Rompere il ciclo della procrastinazione significa scegliere la crescita invece della comodità. Ogni piccolo passo che fai oggi, senza esitazione, ti avvicina ai tuoi obiettivi. La chiave è iniziare ora. Circondarsi di persone tossiche. Le persone con cui condividi la tua vita hanno un enorme potere sul tuo benessere emotivo e sulla tua mentalità. Se ti circondi di persone tossiche, quelle che ti scoraggiano costantemente, ti criticano o sminuiscono i tuoi sforzi, finirai per assorbire lentamente quella negatività. Questo tipo di relazioni ti prosciuga emotivamente, mina la tua autostima e ti tiene bloccato in uno stato di debolezza e autolimitazione. Le persone tossiche non sono sempre apertamente ostili. A volte sono sottili, travestendo le loro critiche e il loro pessimismo come consiglio realismo. Ma quello che stanno facendo è seminare dubbi nella tua mente, facendoti credere che non sei capace, che i tuoi sogni sono irraggiungibili o che non meriti il successo. Questo ambiente diventa una prigione emotiva, una che limita il tuo potenziale e perpetua la mediocrità. Assorbi ciò che ti circonda. E se ciò che ti circonda è negativo, anche tu sarai avvolto da quella nube oscura. Lo stoicismo ci insegna ad essere estremamente attenti al nostro ambiente sociale. Epiteto affermava che siamo il riflesso delle persone con cui trascorriamo più tempo. Se vuoi essere forte, saggio e resiliente, è vitale circondarti di persone che condividono questi valori, persone che ti ispirano a migliorare e ti spingono avanti. La forza emotiva si costruisce con relazioni sane, basate sul reciproco sostegno, rispetto e autenticità. Ricorda, il tuo ambiente può essere la tua più grande forza o la tua peggiore debolezza. Allontanati da chi ti trascina nella negatività e cerca la compagnia di coloro che ti elevano. Sei tu a scegliere chi ti circonda e questa scelta definisce il tuo cammino. Evitare la responsabilità Evitare di assumersi la responsabilità delle proprie azioni è un'abitudine che lentamente mina il tuo potere personale. Quando dai la colpa agli altri, alle circostanze o alla sfortuna per i tuoi problemi, ti privi della capacità di cambiare la tua vita. Rifiutandoti di accettare la responsabilità, rinunci all'unica cosa che puoi davvero controllare, le tue decisioni. Questa abitudine non solo ti indebolisce emotivamente, ma ti mantiene in una posizione di vittima, incapace di prendere il controllo del tuo destino. Vivere in costante evitamento della responsabilità è camminare nella vita senza una direzione chiara. Ogni volta che attribuisci i tuoi errori o fallimenti a fattori esterni, ti stai dicendo che non hai potere sulla tua situazione, alimentando così la disperazione e lo stallo. è un ciclo distruttivo che ti tiene bloccato nell'inazione e nella mediocrità senza possibilità di crescita o miglioramento. Lo stoicismo ci insegna che, anche se non possiamo sempre controllare ciò che ci accade, possiamo controllare come reagiamo ad esso. Assumersi la responsabilità delle nostre decisioni e delle nostre azioni ci dà il potere di cambiare la nostra realtà. Marco Aurelio diceva la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri e quei pensieri sono modellati dalla tua capacità di assumere il controllo di ciò che è nelle tue mani. Lasciare andare questo comportamento ti libera. Assumendoti la piena responsabilità della tua vita, ti rendi conto che il potere di cambiare, migliorare e progredire è sempre stato nelle tue mani. Riconquisti la tua forza interiore quando smetti di dare la colpa agli altri e inizi a prendere il controllo del tuo destino. Sei l'architetto della tua vita. 9. Mancanza di disciplina La mancanza di disciplina è una delle abitudini più debilitanti che puoi sviluppare. Senza disciplina la tua vita diventa un insieme di decisioni impulsive senza direzione né scopo. È facile cedere alla tentazione dell'immediato, alle distrazioni, all'intrattenimento inutile o al conforto a breve termine ma senza una struttura chiara e senza la capacità di seguirla i tuoi obiettivi svaniscono e il progresso si ferma. La disciplina è ciò che ti permette di andare avanti anche quando non ne hai voglia. È la forza che ti mantiene fermo sul cammino quando le circostanze diventano difficili. Lo stoicismo è una filosofia basata sulla disciplina personale. Gli stoici credevano che per vivere una vita virtuosa e completa dobbiamo agire in armonia con i nostri principi non con le nostre emozioni momentanee o desideri effimeri. Epiteto diceva nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso e l'autodisciplina è lo strumento che ti permette di diventare quel padrone. Sviluppare la disciplina ti consente di resistere alle tentazioni che ti allontanano dal tuo scopo, ti aiuta a dire no quando necessario e a perseverare quando il cammino si fa difficile. Essere disciplinato significa agire con coerenza indipendentemente da ciò che accade intorno a te. Quando adotti la disciplina diventi inarrestabile perché hai addestrato la tua mente a concentrarsi su ciò che conta davvero. Elimina la mancanza di disciplina dalla tua vita e vedrai come le tue azioni cominceranno ad allinearsi con i tuoi sogni. La forza non viene dalla motivazione ma dall'abitudine di fare ciò che devi fare indipendentemente dalle circostanze. La disciplina è la vera strada verso la libertà e il successo. 10. Concentrarsi su chi o c'è non puoi controllare. Uno degli abitudini più debilitanti che puoi sviluppare è sprecare tempo e preoccupazioni su cose che sono completamente fuori dal tuo controllo. Questo atteggiamento ti immerge in un mare di ansia poiché ti affliggi con pensieri su ciò che gli altri pensano, sulle circostanze esterne o sul futuro incerto. Questa preoccupazione non solo è improduttiva ma ti indebolisce emotivamente distogliendo la tua attenzione da ciò che puoi realmente cambiare nella tua vita. Lo stoicismo ci offre una prospettiva chiara e liberatrice. Dobbiamo concentrarci su ciò che è sotto il nostro controllo, le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre reazioni. Questo è fondamentale per la nostra pace mentale e il nostro benessere. Quando accettiamo che non possiamo controllare le opinioni altrui o il risultato di certi eventi iniziamo a liberare una quantità immensa di energia e potere interiore. Questo cambiamento di mentalità ti permette di dirigere la tua attenzione su ciò che conta davvero. La tua risposta alle circostanze. Quando smetti di preoccuparti per ciò che non puoi cambiare riprendi la tua autonomia e ti senti potenziato. La libertà e la forza risiedono nella capacità di agire in base ai tuoi valori e principi indipendentemente dalle influenze esterne. Come diceva Epiteto non sono gli eventi a turbarci ma il modo in cui li interpretiamo. Il vero cammino verso la libertà e la forza sta nel lasciare andare queste preoccupazioni. Concentrati su ciò che puoi controllare e vedrai come la tua vita si trasformerà. Prendendo il controllo della tua mente e delle tue azioni diventi l'architetto della tua felicità e del tuo successo. Questo cambiamento di prospettiva non solo ti rafforza ma ti libera anche dalle catene dell'ansia. Ora che conosci i dieci comportamenti che ti indeboliscono è il momento di agire. Inizia oggi stesso ad eliminarli dalla tua vita e vedrai come la tua forza interiore si moltiplica. Se questo video ti è stato utile non dimenticare di mettere un like iscriverti al canale e condividerlo con i tuoi amici e familiari affinché anche loro possano migliorare la loro vita. Ci vediamo nel prossimo video dove continueremo ad esplorare la saggezza stoica per una vita migliore. la saggezza stoica